Salve a tutti. Con il decreto legge sostegni bis pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 25 maggio, nell'intenzione di accelerare al massimo le procedure concorsuali per rispondere all'esigenza dell'amministrazione di reclutare un certo numero di docenti da portare in cattedra già dal primo settembre prossimo, sono state introdotte alcune disposizioni che probabilmente meritano maggiore attenzione in sede di conversione in legge del decreto stesso. Ci riferiamo in particolare al comma 13 laddove si prevede che i candidati che non dovessero superare il concorso a cattedre non potrebbero partecipare al concorso immediatamente successivo. Questo sicuramente è un punto che stride con i principi di cui l'articolo 97 della Costituzione e quindi merita un approfondimento, una riesame in sede di conversione in legge. Tuttavia è il caso di precisare che questo limite riguarderebbe, secondo una lettura della lettera della norma, soltanto il concorso immediatamente successivo a quello che non viene superato. Quindi sostanzialmente il candidato che non supera il concorso dovrebbe saltare un giro e poi partecipare al concorso successivo. Questo limite comunque non si applica ai candidati che, nonostante abbiano presentato una domanda, non dovessero presentarsi per lo svolgimento delle prove, perché in quel caso non si avrebbe sostanzialmente un mancato superamento del concorso, bensì una semplice non partecipazione al concorso. La norma prevede tuttavia una deroga a questo vincolo e riguarda i candidati che parteciperanno al concorso per le classi di concorso STEM per l'anno scolastico 2021-2022. Per questa categoria di candidati infatti è prevista una deroga a quel limite, quindi sostanzialmente i candidati che non dovessero superare il concorso STEM potrebbero comunque partecipare al concorso ordinario indetto per le medesime classi di concorso. Anche qui questa disposizione derogatoria stride con il principio di parità di trattamento, perché per i candidati delle altre classi di concorso che non dovessero superare il concorso vige il blocco alla partecipazione al concorso successivo. Per i candidati STEM questo blocco non si applicerebbe. Un punto infine oscuro della DL sostegni bis riguarda proprio l'ultima parte del comma 18, laddove prevede che per i concorsi ordinari ai quali possono partecipare anche i candidati che hanno partecipato alla procedura STEM potrebbe essere prevista una riapertura dei termini per la partecipazione. Qui vedremo con il decreto ministeriale attuativo in che termini verrà applicata questa disposizione che effettivamente non è molto felice nella sua formulazione. Vedremo come si evolverà la situazione in sede di conversione in legge del decreto. Vi invito a seguire per il costante aggiornamento la pagina della tecnica della scuola, i canali social e il canale YouTube. Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!